In questa edizione del nostro telegiornale iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio. La Roma ha battuto il Torino per 3 a 2 mentre la Lazio è stata sconfitta dalla Fiorentina per 2 a 1. Sia la Fiorentina che la Roma adesso sono sempre più vicino all'obiettivo europeo. Crollo del Torino che rimane ancora stazionario in zona Europa ma con un distacco un po' più pesante mentre la Lazio è completamente fuori forma. In campo oggi il turno di Serie B. Ad aprire la giornata ci sarà il match tra Reggiano e Sutirol mentre questa sera la partita più interessante sarà Sampdoria-Cremonese. Le altre partite si disputeranno domani. L'Assemblea dei club ha esaminato il documento FIGC e non è rimasta soddisfatta dalle priorità assegnate. Viene posticipato l'intervento della governance del sistema federale. Questo lo ha detto durante l'Assemblea il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. Cosa penso di play-off e play-out? È semplice. Da vent'anni la Serie A gioca a 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che si è visto il campionato ed è rimasto sempre lo stesso ma FIFA e UEFA hanno aumentato moltissimo le loro partite. Questo ha dichiarato l'amministratore delegato delle Monza Adriano Galliani. Per quanto riguarda invece l'estero il Bayern Monaco ha ufficializzato che Max Herber sarà il nuovo direttore sportivo a partire dal primo marzo. Tomasson, ex giocatore del Milan, è diventato il nuovo CT della Svezia. Questo è il primo CT straniero per la nazionale svedese. Alle 18 di oggi invece è in campo per l'amichevole di calcio la nazionale femminile contro l'Inghilterra. Passiamo al tennis. All'ATP di Acapulco, Arnaldi ha sconfitto Frenz con un netto 6-4, 4-6-6-3. Koboli invece ha battuto Auger Aliasiem con il punteggio di 2-6, 6-3 e 6-2. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, Kemenovic ha sconfitto Schwarzman per 4-6, e 6-3-6-1. Nishioca ha sconfitto Borges 3-6-6-2 e 6-4. Demirara ha sconfitto Daniel per 6-2-6-1. A Santiago del Cile, Martinez ha battuto Passaro, il nostro azzurro Passaro, per 6-4-6-1. Per quanto riguarda invece il VTA ad Austin, Lucia Bronzete è stata eliminata da Yang Wang con il punteggio di 7-4, 6-4. La Osorio, sempre nel medesimo torneo, la Osorio ha sconfitto la Cornet 6-3-6-2. Per quanto riguarda invece l'ATP di Santiago, in campo oggi Darderi contro Bagnis, mentre all'ATP di Dubai Musetti affronterà Kasu, mentre Sonego affronterà Nagal. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, Korda ha battuto Pavel Kotov per 6-0-6-2. Bottic Van Schulps ha sconfitto Mannarino per 7-6-7-5. Andy Murray ha sconfitto Shapalov per 4-6-7-6-6-3. Alex Ander Bublik ha sconfitto Manchak con il punteggio di 2-6-6-3-7-6. Andrew Rublev ha sconfitto Zang per 7-6-6-2-6-4, mentre Ulkaraz ha sconfitto Struff per 7-6-6-7-7-6. Passiamo al ciclismo. Doccia fredda per gli amanti delle due ruote, specie per quelli del sud. Il giro di Sicilia, in programma dal 9 al 12 aprile, è stato cancellato. Una vera e propria amarezza per gli amanti delle due ruote che aspettavano questo avvenimento importante. Visto che il giro d'Italia non sarà nelle regioni di Calabria e Sicilia, il giro di Sicilia per queste due regioni era l'unica manifestazione a tappe che si sarebbe corso nell'estremo sud Italia. Da ricordare che il giro della città metropolitana di Reggio Calabria è ancora calendarizzato. Al posto della corsa siciliana si potrebbe essere il giro d'Abruzzo. Passiamo all'NBA con i risultati della notte italiana. Indiana-Pers contro Toronto-Ramptors 112-130. New York Knicks-Detroit-Pistons 113-111. Memphis-Brooklyn-Netson 86-111. Mentre Sacramento è stata sconfitta da Miami per 110-121. Per quanto riguarda il volley, questa sera la Mint Volley Monza affronterà il Project Varsaga nella finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile. Passiamo agli sport invernali con lo snowboard. Sabato 2 marzo la Snowboard Park Internazionale nel cuore delle Donomiti, diciamo a 20 minuti da Bolzano, ospiterà il Park Battle dedicato ovviamente agli snowboarder. Mentre per quanto riguarda i convocati dell'Italia per la tappa di sera nevata, per quanto riguarda gli uomini ci saranno Omar Vicentini che sarà anche il capitano, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Devin Castello, Niccolò Colturni, Luca Appati e Matteo Rezzoli. Per quanto riguarda invece l'ambito femminile, a guidare la nostra spedizione ci saranno Michela Mojolo, Sofia Berlingheri, Sofia Grodlenbeckner e Caterina Carpano. Per quanto riguarda invece lo sci alpino, Noel Zichenbrugger si è aggiudicato il primo gigante di Passturn in Austria, valevole per la Coppa del Mondo europea di sci alpino maschile. Al secondo posto si è classificato il francese Flavio Vitale, terzo posto per Hans Grand Madsen. Si ferma in dodesima posizione il come migliore azzurro dal lato Giovanni Franzoni. Per quanto riguarda lo sci di fondo, i convocati dell'Italia per lati sono Federico Pellegrino, Elia Burp, Simone D'Aprà, Paolo Ventura, Michael Helwerger, Riccardo Bernardi e Alessandro Ciocchetti. Per quanto riguarda invece le donne, Caterina Gans, Nicole Monsorno, Nadine Lorand. Per quanto riguarda invece la combinata nordica, i convocati per l'Italia sempre per lati sono Samuel Costa, Aaron Köstner, Raffaele Buzzi e Jacopo Barpolas. Passiamo all'atletica, Mattia Furlani sarà tra i protagonisti per il salto in lungo ai mondiali d'indoor del 2024 di atletica leggera in escena a Glasgow dall'1 al 3 marzo. Per quanto riguarda invece l'Italia, nelle femminine, Larissa Iacchepino andrà a caccia per la medaglia d'oro nella finale di salto in lungo, sempre a Glasgow. Passiamo al cricket per quanto riguarda l'Italia che si è qualificata alla Super Six del torneo come prima classificata del girone A. Kuwait è arrivato in seconda posizione, terzo invece l'Arabia Saudita, mentre vengono eliminate le Bermuda. Passiamo invece al Judo, Tansket ospiterà il terzo Grand Prix dello Slam generale di Judo del World Tour. Per quanto riguarda i convocati ci sono Assunta Scutto nei 48 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg, Crista Parlati nei 90 kg. La delegazione italiana verrà ampliata anche da Michela Sciacovelli per i 52 kg, Kenia Pern sempre per i 52 kg, Flavia Favorini per i 63 kg insieme a Savita Russo, Irene Pedrotti invece gareggia sui 70 kg, Giorgia Stankerlin per i 78 kg, Erika Simonetti per gli over 78 kg. Per quanto riguarda invece quello maschile, Angelo Pantano, Andrea Carlino sui 60 kg, Matteo Piras sui 66 kg, Edoardo Mella sui 73 kg, Giacomo Gamba sugli 81 kg, Gennaro Pirelli sui 100 kg insieme a Nicolos Mungani, mentre per gli over 100 kg, Caio Annani. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, un caro saluto. Grazie per la visione!